L'asilo Rodari di via Veneto a Montecchio Maggiore sarà abbattuto per fare spazio ad una nuova scuola capace di contenere 85 bambini tra i 3 e i 6 anni, intervento necessario a causa delle crepe strutturali rilevate due anni fa sull'edificio. La fase 1 prevede la demolizione in estate e poi circa 14 mesi di cantiere per realizzare la nuova costruzione. La nuova scuola prima di essere costruita dovrà subire l'abbattimento di quella precedente quindi i lavori di abbattimento di quella precedente contiamo di farli entro l'estate, cominciare i lavori adesso per finirli all'inizio delle scuole perché la scuola Rodari è attaccata a un'altra scuola che è la scuola elementare San Francesco quindi i lavori di demolizione che sono particolarmente rumorosi vanno fatti adesso perché poi c'è polvere e c'è rumore. Si parla di 1.300.000 euro di investimento, costruzione in cui ci sarà particolare attenzione all'uso dei materiali che tengano conto di criteri di risparmio energetico. Una scuola moderna costruita con tutti i criteri per il risparmio energetico e proprio per questo abbiamo chiesto un finanziamento per appunto il contenimento dell'energetico.